I rapporti tra odontoiatria moderna e medicina estetica, le novità inerenti al mondo dell'informazione sanitaria, il sempre più sentito problema delle antibiotico-resistenze, oltre all'importanza della formazione e dell'aggiornamento. Sono stati questi alcuni dei principali temi al centro dell'Assemblea nazionale dei presidenti delle commissioni degli odontoiatri e degli ordini dei medici che si svolta a Lecce a Lilton con la partecipazione di professionisti ed esponenti nazionali, oltre che istituzioni locali e regionali. Siamo particolarmente soddisfatti e molto molto orgogliosi del fatto che Lecce sia stata scelta come teatro di questa manifestazione così importante, grazie anche alla volontà e alla collaborazione della Federazione nazionale, quindi il presidente Filippo Anelli, il presidente della commissione odontoiatri nazionale, il dottor Raffaele Iandolo, che ci ha tenuto particolarmente a che questa cosa si verificasse a Lecce. L'odontologia italiana è sicuramente ai massimi livelli, a livello mondiale, in termini di ricerca scientifica, di qualità del servizio che viene fornito ai pazienti, quindi noi davvero continuiamo a lavorare perché le prestazioni odontoiatriche si mantengano sempre di assoluto livello, di livello altissimo. Questo è stato un evento di eccezionale importanza per la società medica salentina e per il nostro territorio. Sono stati affrontati degli argomenti interessanti a livello clinico e a livello scientifico, tipo il rapporto fra odontoiatria moderna, odontoiatria estetica e il sempre più sentito problema dell'antibiotico resistenza in medicina. Un ringraziamento speciale per i nostri presidenti, il dottore Filippo Annelli, il dottore Raffaele Iandolo e il dottore Salvatore Caiula che è il nostro presidente della provincia di Lecce.